L'evento dell'anno L'occasione di incontrare la principessa dei Galles ha un ballo di beneficenza al costo di 300 serline a testa. Qualcuno ha detto il male trionfa quando le persone buone non fanno nulla. Questa sera siamo immensamente felici che un uomo buono, il dottor Victor Chang, abbia fatto tanto. E di questo gli siamo tutti molto grati. Mentre guardiamo con fiducia verso il futuro.